La campagna vaccinale della SST Sette Laghi è iniziata il 27 dicembre scorso e da quel giorno vacciniamo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, fino alle attuali 1.600 vaccinazioni al giorno erogate in 6 sedi vaccinali più un'equip vaccinale itinerante. Oltre alle categorie della fase 1a e 1bis vacciniamo gli over 80, il personale scolastico, le forze dell'ordine e i pazienti fragili, partendo da dializzati, oncomatologici e trapiantati. Si tratta di uno sforzo organizzativo complessissimo che coinvolge tantissime professionalità perché non si tratta solo di somministrare il farmaco, ma anche di studiare i percorsi, organizzare le agende integrando le diverse categorie e prevedendo già le seconde dosi, gestire le liste e le prenotazioni, curare la logistica e le consegne del farmaco, preparare le dosi, curare tutti gli aspetti assistenziali e molto altro. A breve inoltre saremo pronti a vaccinare anche nelle due grandi sedi della Schiranna e di Rancio-Valcuvia, arrivando a oltre 6.000 vaccinazioni al giorno.